Ciao ragazzi, sono Kingslave Corporation e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo la reaction al secondo trailer di Morbius. Però prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation e non riduggiamo oltre, facciamo la reaction. 3, 2, 1, via! Sarei dovuto morire anni fa. Persone in tutto il mondo hanno la mia malattia. Sono qui per trovare una cura. Dobbiamo superare i limiti, prenderci dei rischi. Se vuoi scappare, fallo adesso. Dottor Michael Morbius, lei è scomparso per due mesi. Poi è stato trovato su una nave cargo arenata a largo di Long Island. Che cosa si è fatto, dottore? Vorrei saperlo. Stavo morendo e ora sono più vivo che mai. Ci sono dei limiti, devono esserci. Qualcosa dentro di me mi spinge a consumare sangue. Michael? Mezza città vuole ucciderti. Non succedeva nulla del genere da quella faccenda a San Francisco. L'altra metà vuole controllarti. Ehi, dottor Michael, dovremmo restare in contatto. Farei di tutto per salvare una vita. Ma non so di cosa sono capace. Tu salvi le persone, non le uccidi. Sei qui per curare il mondo? O per distruggerlo? Wow. Tu chi diavolo sei? Io sono Venom. Scherzo, sono il dottor Michael Morbius, al tuo servizio. Cosa? Cosa? Ma stiamo scherzando, fra? Stiamo scherzando? Beh, direi che Morbius è molto più interessante di quanto pensassi. Beh, c'è al voltoio dell'MCU, quello originale, che fa parte dell'universo di Morbius. Wow, quindi si sta mescolando. Poi, dopodiché, anche con Venom, che ha detto io sono Venom. La cosa si fa abbastanza interessante. Ma, niente ragazzuoli, questa è la reaction al trailer. Molto, non è nulla di che, per carità. Però, è abbastanza interessante, dal punto di vista del multiverso di Spider-Man. Ho visto alcune cose che possono un po' stuzzicarmi il naso, tra cui lo Spider-Man di Sam Raimi, con scritto Murdered, assassino. Poi l'edificio della Oscorp, che ha lo stesso design di The Amazing Spider-Man 2. E, ovviamente, la voltoio dell'MCU, quello originale. Meglio così, meglio così, sono molto contento. E niente, ragazzi, io vi ricordo di... Attenzione, attenzione a tu... No, ho sbagliato, ecco qua. Sì, è vero, devo aprire anche la pubblicità. La mia pagina internet, ragazzi. Perché io ho creato una pagina internet. Eh sì, ragazzi. Andiamo a vederla insieme. Dunque, questa è la mia presentazione. Queste sono le cinque regole in cui mi potete aiutare a essere affiliato Twitch. Ovvero, 50 followers e non solo. Questi sono i miei canali, sempre se mi fa cliccare. Canali Twitch, YouTube e pagina Instagram. Che potete cliccarci sopra e, con il link, vi può andare alla pagina suddetta. Dopodiché il mio progetto Reminescence, che è un gioco D&D story-driven, accompagnato con Minecraft, inventato da me. Dopodiché, se volete supportarmi su Twitch, e io vi ringrazio ancora per questo, basta cliccare su Donare. Dopodiché, apparirà la donazione sulla somma che volete voi. E io vi ringrazierò in live. Niente, signori, io vi ricordo di seguirmi su Instagram, YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!